seconda parte apparecchio alla morte ovvero considerazioni sulle verità eterne di santa alfonso maria del liguori edizioni gribaudi lettura di cristina capella scopo dell'opera è necessario leggerlo alcuni desideravano da me un libro di riflessioni sulle verità eterne a beneficio delle anime che vogliono rafforzarsi meglio nella virtù e avanzare nella vita spirituale altri poi mi chiedevano una raccolta di argomenti che potessero essere predicati durante le missioni per missione si intende un ciclo di meditazioni e preghiere condotte da un predicatore allo scopo di confermare nella fede una comunità di credenti già costituita e gli esercizi spirituali per non aumentare troppi libri fatiche e spese ho ritenuto di realizzare la presente opera nel modo che il lettore vedrà affinché possa raggiungere entrambi gli obiettivi ho scritto queste riflessioni dividendo ciascuna in tre punti allo scopo di renderle utili ai laici per meditare ogni punto servirà per una meditazione perciò ho aggiunto ad ognuno di essi i sentimenti e le preghiere e invito i lettori a non annoiarsi quando leggeranno sempre in queste preghiere che io invoco le grazie della perseveranza e dell'amore di dio perché queste sono le due grazie più necessarie a noi se vogliamo ottenere la salvezza eterna la grazia dell'amore divino come dice san francesco di sale è quella che racchiude in sé tutte le grazie poiché la virtù della carità verso dio genera spontaneamente tutte le altre virtù insieme con essa mi sono avvenuti tutti i beni sapienza 7 11 salomone chiese la sapienza e ottene da dio anche innumerevoli altri beni chiama dio è umile e casto e ubbidiente e mortifica se stesso in una parola a tutte le virtù ama e faccio che vuoi scriveva sant'agostino in epistola ambio annis numero 8 ama dio e fa quel che vuoi sì perché chi ama dio cercherà di evitare qualunque cosa gli faccia dispiacere e non avrà altro fine se non quello di essergli gradito in tutto la seconda grazia poi è quella della perseveranza che ci fa ottenere il premio eterno san bernardo afferma che il paradiso è promesso a coloro che incominciano a condurre una vita buona ma viene concesso alla fine solo a chi persevera il premio è promesso a coloro che incominciano ma è concesso a chi persevera dall'opera de modo bene vivendi sermone 6 attribuite invece ad un autore noto come pseudo bernardo d'altra parte come insegnano i santi padri della chiesa la perseveranza non viene accordata se non a chi la richiede per questo motivo san tommaso scrisse che per poter entrare in cielo è indispensabile una preghiera continua dopo il battesimo tuttavia per l'uomo è necessario pregare ininterrottamente allo scopo di entrare in cielo tommaso d'aquino summa teologie parte terza questio 39 articolo 5 e prima ancora lo affermò il nostro salvatore è necessario pregare sempre senza stancarsi o portate sempre orare e non deficere luca 18 1 tralasciare la preghiera è la causa per cui molti poveri peccatori benché siano stati perdonati non riescono a conservarsi in grazia di dio hanno ricevuto il perdono ma per aver poi trascurato di chiedere a dio la perseveranza ritornano a cadere specialmente nei momenti di tentazione al contrario sebbene la grazia della perseveranza sia del tutto gratuita e noi non possiamo esserne degni con le nostre opere tuttavia la si ottiene immancabilmente con la preghiera come sostiene il padre suarez e prima ancora sant'agostino dichiarò che possiamo meritare il dono della perseveranza con l'orazione si può meritare questo dono di dio con l'umile preghiera cioè si può tenerlo pregando insistentemente agostino de dono perseveranzi capitolo sesto dimostreremo diffusamente la necessità di questo tipo di orazione in un'altra breve opera intitolata il gran mezzo della preghiera tale opera sebbene sia concisa e quindi di poca spesa mi costa però molta fatica e io la ritengo di enorme efficacia per ogni genere di persone anzi affermo con assoluta sicurezza che fra tutti i trattati di ordine spirituale non esiste non può esservi un trattato più utile e più necessario di questo sulla preghiera per ottenere la salvezza eterna infine allo scopo di rendere questo volume utile anche i sacerdoti per predicare e tenendo conto del fatto che i preti possiedono pochi libri e non hanno tempo di leggerli ho corredato le riflessioni sia di testi tratti dalle sacre scritture sia di passi dei santi padri anche se brevi questi brani sono acuti e dotati di tutte le caratteristiche necessarie per le omelie vorrei sottolineare il fatto che ogni riflessione unitamente a tutti e tre i punti in cui si articola può costituire un'omelia in tale prospettiva ho provveduto a raccogliere da molti autori i sentimenti più vivi che mi sono parsi maggiormente adatti a scuotere l'animo e nell'opera ne ho inseriti parecchi in modo conciso affinché il lettore possa scegliere fra quelli che gli sono più graditi e svilupparli poi a suo piacimento tutto sia a gloria di dio prego il lettore di raccomandare l'anima mia a gesù cristo quando prenderà in mano questo libro nel caso io sia vivo e anche se fossi morto e io prometto di farlo stesso per tutti coloro che mi useranno questa carità il passo è presente nella maggior parte delle edizioni dell'opera e delle ristampe non lo si trova però nell'originale del 1761 oggi conservato nel museo di bassano da cui fu eliminato con una correzione autografa dello stesso sant'alfonso viva gesù nostro amore e maria nostra speranza pagina 18 grazie a tutti 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 grazie a tutti